Da Spiderman di quartiere, voglio augurare tutti gli iscritti di Marti Prego e di Spiderman una buona giornata, buona lunedì e forza ragazzi, Spiderman vi difenderà, qui c'è una famiglia e siamo grandi, tanti bacioni a tutti gli iscritti di Marti Prego. Mi dispiace che sono usciti quei due o tre persone che non vogliono capire a Marti Prego e a Spiderman, comunque niente, stasera ci vedremo in diretta su Instagram, con Spiderman secondo più che il primo, il primo fa questo perché siete molto simpatici, vi voglio bene e il primo posto del quale me ci prego è di Spiderman 1 e il 2, quindi niente, voglio solo augurarvi Spiderman, Spiderman, sono qui per voi e di voi vi difenderò, Spiderman, sono Spiderman di quartiere. Ciao a tutte le donne, un bacione e ciao mia Gisella, ritorna il più presto possibile da noi. Saluto anche Joker e tutti, anche Canelli e Gianluigi, la Ressa e tutti, ciao ciao.